Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi parleremo di come autotrattarsi i dolori della zona suboccipitale, dolori della zona cervicale, dolori del tratto dorsale da dietro le scatole fino a metà busto e dolori del tratto lombare che causano lombagie e lombosciattagie e tutto questo da casa con l'aiuto di una semplice pallina da tennis. Oggi andiamo a vedere come risolvere quei forti dolori che ci partono da dietro la testa e arrivano fino alla zona frontale che chiamiamo omicrane con la pallina da tennis. Prima cosa da fare individuo dove posizionare la mia pallina quindi con una mano applico due dita il medio e l'indice sull'attaccatura dei capelli dietro l'orecchio con l'altra mi aiuto a posizionare la pallina mi giro e vado ad appoggiare la zona lombare soprattutto contro il muro con i piedi aiuterò a spingere e quindi con il gomito aperto giù il mento alzo la nuca e ogni volta che metto l'aria butto fuori vado esercitare delle piccole pressioni contro il muro quindi butto fuori l'aria e schiaccio inspiro lentamente rilasso le spalle butto fuori l'aria schiaccio bene e ancora una volta fuori stessa cosa la ripeto dall'altra parte quindi con due dita vado a prendere la parte dell'attaccatura dei capelli con la mano tengo ferma la pallina in modo che non scivoli fermo il mento verso il basso e alzo la nuca quindi tre respiri giù le spalle spingo forte anche con i piedi due e schiaccio contro il muro faccio un bel respiro fuori l'aria tre ricordo di respirare con la pancia schiacciando tutta la schiena contro il muro molto meglio molto bene andiamo invece a vedere cosa fare per il torcicollo o la pesantezza delle spalle delle braccia con la parte bassa del palmo della mano l'appoggiamo sulla parte alta superiore della clavicola all'ossicino vicino al collo la parte restante delle dita che si appoggia sul muscolo trapezio invece sarà il punto d'ancoraggio della nostra pallina da tennis quindi teniamo con le dita ferma lì la pallina e ci distendiamo a terra cercando di fermarla con tutto il peso delle nostre spalle da qui fuori l'aria in retroversione quindi schiacciando la zona lombare contro il pavimento per tre volte quindi butto fuori l'aria alla fine delle tre volte spingo il bacino verso l'alto sollevandolo completamente aumentando così la pressione contro la pallina del tratto cervicale butto fuori l'aria e respiro alzando bene la zona addominale faccio tre respiri mi appoggio sollevo un braccio ed eseguo tre cerchi prima da una parte sempre buttando fuori l'aria due faccio un bel respiro fuori l'aria tre e cambio giro dall'altra uno inspiro due fuori l'aria tre molto bene tolgo la pallina mi giro sempre con l'aiuto delle braccia per sollevarmi ed eseguo la stessa identica manovra dall'altra parte quindi palmo della mano appoggio la parte più bassa sopra la mia clavicola le dita restanti che stanno dietro sulla zona che mi duole le tengo per appoggiare la pallina e da qui tenendo la pallina in posizione scendo giù a terra caricando tutto il peso del corpo faccio un bel respiro mi metto in posizione respiro con l'addome quindi giù le braccia lungo il corpo e per tre respirazioni schiaccio la zona lombare a terra riducendo così la curva lombare faccio tre respiri profondi alla fine tre respiri sollevo il bacino aumentando la pressione contro la pallina tieni i glutei molto stretti butto fuori l'aria solleva bene l'addome riempi l'addome d'aria per buttare fuori tieni sollevato il bacino quando ho finito l'appoggio ed eseguo tre cerchi con il braccio prima da una parte andando indietro molto lentamente continuando a respirare fuori l'aria e 3 cambio giro eseguo la stessa cosa inspiro fuori l'aria 2 e ancora 1 3 ok appoggio bene a terra faccio un bel respiro tolgo la pallina con le braccia mi aiuta a sollevarmi e ciao ciao dolore cervicale adesso andiamo a individuare invece quella che è una zona di dolore particolare ossia la zona dietro le scapole che spesso scende con forti fitte fino a metà busto quindi con la pallina se non riesco ad arrivare con una mano lateralmente vado da sopra quindi individuo il lato della scapola appoggio la pallina e da questo punto tenendo la pallina ferma quindi con il braccio verso l'alto scendo giù a terra fletto entrambe le gambe sollevo il bacino e tengo alte le braccia verso l'alto e prova a scivolare utilizzando il lato della scapola come se fosse un binario avanti e indietro per tre volte molto lentamente da qui faccio un bel respiro butto fuori l'aria e sostengo la posizione con tre respirazioni addominali come prima una volta che ho raggiunto ovviamente l'apice più basso della scapola con la mia pallina scendo giù tolgo la pallina ed eseguo la stessa manovra dall'altra parte sempre con le braccia quindi mi sollevo vado a individuare il punto laterale alla scapola scendo giù mi appoggio sopra sollevo il bacino e scivola avanti indietro con tutto il corpo sollevando le braccia utilizzo quindi le gambe per esercitare questa manovra lo faccio per tre volte respirando col bacino faccio un bel respiro scendo giù tengo il bacino sollevato per tre respirazioni e scendo giù a terra tolgo la pallina e così abbiamo lavorato sulla zona del tratto dorsale concludiamo quindi con la zona lombare mi siedo con i glutei in appoggio esattamente sopra i talloni con le mani individuo la linea interglutea verticale dove inizia ampliando la presa posizione compasso dove arriva il medio all'indice posiziono la mia pallina la tengo con le mani e vado ad istendermi a terra lateralmente quindi in decubito laterale mi accorgerò che il punto è corretto perché sentirò nel momento in cui carico subito molto dolore quindi sostengo con la mano la testa e rimango per tre respirazioni diaframmatiche in posizione caricando quindi completamente tutto il corpo dopo le prime tre distendo appoggiando anche l'orecchio sulla parte del braccio a terra faccio tre respirazioni e con le braccia ritorno su tolgo la pallina e cambio quindi la posizione individuando la medesima ma dall'altra parte quindi linea interglutea verticale dove appoggio il medio e l'indice appoggerò quindi la mia pallina la mantengo nella stessa posizione cambio lato mi distendo la zona cervicale con la mano faccio tre respirazioni profonde sempre diaframmatiche quindi con la pancia finito le tre distendo appoggiando l'orecchio sul braccio faccio un bel respiro e da questa posizione finito le mie tre respirazioni torno su ricordo sempre che quando torno su utilizzo le braccia per non sovraccaricare la schiena quindi allungo e concludo la mia fase di esercizi sempre in posizione di preghiera un bel respiro profondo vengo su e ciao ciao dolore ottimo lavoro workout finito se ti è piaciuto il video condividilo con i tuoi amici e iscriviti al mio canale youtube per rimanere aggiornato sui prossimi allenamenti ciao